la conquista dell'italia si realizzò in quasi due secoli e mezzo in tre fasi principali nella prima dal 496 al 396 avanti cristo roma conquistò il lazio sottomettendo via via gli etruschi e gli altri popoli che erano stanziati in quest'area i volsci gli equi e i sabini dal 343 al 290 avanti cristo e siamo alla seconda fase roma si scontrò con i sanniti una popolazione appenninica originaria del sannio regione che corrisponde agli attuali molise abruzzo meridionale e parte della campagna quello con i sanniti fu un conflitto che impegnò roma per 50 anni per un totale di tre guerre durante le quali i romani subirono dure sconfitte soprattutto durante la seconda la terza guerra sannitica fu ancora più aspra delle precedenti perché ai sanniti si unirono questa volta gli etruschi gli umbri e persino i galli stanziati nell'italia centro settentrionale lo scontro decisivo si combatté nel 295 avanti cristo a sentino nelle attuali marche e si concluse con la vittoria dei romani a partire dal 295 avanti cristo con la sconfitta dei galli alleati dei sanniti ebbe inizio la romanizzazione dell'ager gallicus picenus il territorio in cui erano stanziati i galli senoni e i piceni la romanizzazione di questo vasto territorio ebbe inizio con la fondazione della colonia romana di sena gallica nel 295 avanti cristo grazie a tutti